Se vado poi posso camminare così? Perché? Perché sembra scena, lo vuoi dire? Quindi se io mi spado sopra la memoria e vado a giro, se io cammino così e vado a questo, guarda, bene, bene, se io leggo da fuoco come direzione, se io come primo passo devo andare in quella direzione lì, secondo voi posso fare questo, sto andando lì, c'è piede storti, addirizzo, anche così, perché? Perché dal momento in cui mi sposto là, avuto il piede, è quasi inevitabile che si fa un landing cross, invece questo è un passavanti, è un samba walk, mi sono spiegato o no?